eccoci tornati sulle fonti tv con una nuova puntata del fatto di marcotti saluto subito giancarlo marcotti finanza in chiaro con me per questa parte di live ciao giancarlo ci si eccomi sì sì ho detto ciao ti sapete ti vedo ti vediamo quindi era solo per salutarti benissimo allora ben trovato è lo solo so immagino che tu stia già ragionando sui temi che andremo poi a discutere tra pochissimo allora li vediamo anche insieme ai nostri amici che ci seguono mi raccomando durante il live scriveteci al nostro numero di whatsapp e sulla nostra live chat di youtube a posteriori visto che il video rimarrà disponibile sul nostro sito e sulla nostra pagina di youtube potrete commentare noi leggiamo sempre tutti i commenti così poi prendiamo spunto anche per le puntate successive parleremo intanto faremo come al solito un po il punto su quelli che noi definiamo scenari economici e politici ma non solo ecco qui la sfida almeno la mettiamo in modo goliardico anche se si tratta di tutto tranne che qualcosa di qualcosa di goliardico mercati versus banche centrali secondo me in questo momento i mercati finanziari stanno dicendo noi non vi crediamo cioè banche centrali che alzano i tassi di interesse e quindi in teoria come dire penalizzano comunque l'economia l'inflazione è controllata sta un po raffreddandosi però chiaramente continuando il rialzo dei tassi di interesse le spese per imprese famiglie diventano più onerose eppure i mercati vanno viaggiano c'è ancora questo scollamento tra la finanza i mercati finanziari e l'economia reale poi cominceremo un po a ragionare sull'autonomia differenziata fortemente voluta dal governo in carica il governo meloni peraltro un cavallo di battaglia della lega che fa parte del governo il consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto disegno di legge calderoli appunto un disegno di legge che istituisce una nuova forma di autonomia per le regioni vedremo cosa cambia e soprattutto quali sono quali potrebbero essere i pro e i contro e poi verso le elezioni regionali focus su lombardia e lazio ormai ci siamo cercheremo di capire insomma che campagna elettorale è stata se sarà una un momento importante per la politica quante persone andranno a votare anzi fateci sapere se andrete a votare perché insomma c'è un po il dubbio che possa esserci un'affluenza importante e se insomma i risultati rispecchieranno in qualche modo i risultati delle politiche quindi con un favore al centrodestra allora giancarlo facciamo così partiamo direttamente da mercati versus banche centrali non vi crediamo anche perché poi racchiude questa questa questo titolo un po tutto il focus sugli scenari cosa ne pensi che è che sta c'è una sfida in corso ma in effetti adesso non per citarmi ma io proprio nell'imminenza di una cosa del genere avevo fatto un video proprio per sottolineare questo aspetto che era un po anomalo diciamo cioè le notizie arrivavano ed erano di un certo tipo i mercati andavano in una direzione che dal punto di vista della logica doveva essere contraria quindi sottolineavo questo aspetto qua poi come al solito quando si parla di mercati finanziari dobbiamo far sempre attenzione ad una cosa cioè che i mercati finanziari vanno guardati io dico con lenti particolari cioè non le lenti che ti fanno vedere le cose nell'immediato ma quelle che ti fanno vedere il futuro quindi era probabile che il mercato avesse visto qualche cosa che gli altri umani non avevano visto però io sono rimasto sempre abbastanza così sconcertato dal dal movimento appunto del dei mercati perché obiettivamente sì certo la vedo c'è una diminuzione si è vista una diminuzione dell'inflazione ma i banchieri centrali sia a paolo negli stati uniti che la lagarda nel in europa non avevano mai parlato di allentamento anzi parlavano sempre il contrario e le buone notizie perché qua c'è anche questo le buone notizie di carattere economico fanno sì che danno ancora più coraggio diciamo ai banchieri centrali per aumentare la stretta cioè loro obiettivamente devono combatterla l'inflazione e quindi devono alzare i tassi e se alzando i tassi rovinano la l'economia è un conto ma se l'economia come sembra negli stati uniti va a gonfie vele è chiaro che bisogna prendere beh allora giancarlo ma tu pensi che stai andando a gonfie vele ovviamente faccio anche un po' l'avvocato del diavolo sicuramente sicuramente nonostante tutto quello che sta succedendo a livello esogeno nonostante l'intervento delle banche centrali con il rialzo dei tassi di interesse i risultati economici la fotografia dell'economia non è come forse potevamo aspettarla no perché comunque sta reggendo però insomma a gonfie vele una cosa che regga un'altra e c'è un po il timore ma questo mio modesto parere ma credo che sia anche un po condivisibile da una parte da una platea di investitori e non solo che basti come dire un niente per peggiorare la situazione visto che c'è ancora in essere il conflitto tra russia e ucraina e quindi diciamo che camminiamo un po su su un filo no sì allora teniamo sempre un po diversi mercati per stati uniti e europea assolutamente perché c'è sempre quel ritardo temporale diciamolo così che quindi va tenuto presente però obiettivamente di questi stati uniti si capisce un po poco mi spiego arrivano i dati sull'occupazione è mai così alta non so da quanti anni 53 parlavano insomma una cosa incredibile sembra che appunto trovare lavoro negli stati uniti sia la cosa più semplice del mondo però erano nei giorni precedenti erano arrivate notizie di licenziamenti e insomma è a decine di migliaia quindi insomma è un po difficile può darsi che naturalmente chi viene licenziato da una parte trovi lavoro dall'altra però non lo so ecco anche tutti questi dati qua aumentano i dubbi anziché anziché insomma risolvere le perplessità che ci sono però speriamo per gli stati uniti che sia davvero così cioè che sia che il mercato del lavoro sia così brillante dal numero ripeto dai licenziamenti non sembra in europa è un mercato del lavoro così brillante io non lo vedo però certamente può darsi che anche da noi un po alla volta questa inflazione qua scenda purtroppo in italia la vediamo ancora superiore alla media europea e questo insomma non è che ci avvantaggi ecco ok ok ma quindi domanda da un miliardo di dollari giancarlo come guardare al futuro visto che stiamo ancora assistendo in primis a questo scollamento tra l'andamento dei mercati finanziari e l'economia reale le previsioni come dire sono un po ancora a due colori non possiamo né esultare né disperarci almeno al momento ha parlato per esempio anche ignazio visco dicendo che nonostante tutto per esempio l'indebitamento delle imprese delle famiglie che è quello più direttamente ricollegabile al rialzo dei tassi di interesse no perché ovviamente paghiamo di più prestiti mutui e parliamo ogni giorno di questo tutto sommato il contenuto rispetto a quello che potrebbe essere un confronto internazionale cioè me lo sono segnato 112 per cento del pil contro il 168 per cento medio dell'area euro ovviamente facciamo il confronto con con l'europa ovviamente visco ha detto stiamo attenti perché chiaramente ci possono si possono verificare i segnali di rallentamento però tutto sommato se in europa non va gonfie vele la situazione neanche in italia però insomma il sistema sembra reggere quindi come guardare nei confronti del futuro perché in realtà si respirano ancora tanti timori insomma non è che stiamo procedendo proprio con rosa e fiori sì è vero manuela però questo è sempre stata una forza dell'italia è l'avere un debito privato basso senz'altro inferiore alla media europea purtroppo il rovescio della medaglia è il debito pubblico elevato quello lo sappiamo ce lo ripetono spesso ma il fatto di avere un debito privato basso invece spesso non lo si dice ma è una dei punti di forza dell'italia per cui ecco questo aumento dei tassi che chiaramente pesa sulle persone adesso sembra brutto rivolgersi alle persone che hanno dei mutui a tasso variabile si lamentano ovviamente degli aumenti che hanno avuto però noi dobbiamo fare un ragionamento macroeconomico cioè a livello italia l'indebitamento privato è basso rispetto all'indebitamento degli altri paesi europei e questo diciamo che è un vantaggio anche quando appunto devono salire un po i tassi e come come abbiamo visto e quindi insomma sì chi ha un mutuo soffre ma diciamo che la situazione in italia da quel punto di vista lì è più rassicurante è un io ho fatto un un video nel quale ho invece sollevato un altro aspetto noi abbiamo sempre detto che il risparmio privato in italia è molto alto ed in effetti lo è abbastanza però negli ultimi anni alcuni paesi europei ci hanno superato quindi insomma da quel punto anche da quel punto di vista lì insomma non dobbiamo troppo cularci sugli allori insomma no ma in questo momento credo che per per nulla no possiamo come dire sederci tranquilli bisogna mantenere comunque il livello di guardia alto e però insomma cercando di captare anche le cose positive che ci arrivano allora giancarlo parliamo di autonomia differenziata cominciamo quantomeno a parlarne perché non sarà l'unico l'unico appuntamento insomma anzi piano piano capiremo sempre di più e riusciremo anche a capire meglio cosa potrebbe portare al nostro paese intanto diciamo subito insomma abbiamo sentito parlare tanto spesso di autonomia il consiglio dei ministri ha avarato il disegno di legge calderoli un disegno di legge che istituisce una nuova forma di autonomia per le regioni era stato annunciato da tempo e questo disegno di legge è arrivato praticamente dico tre cose in croce poi cominciamo ad analizzare insieme i punti con la nuova legge si dà attuazione alla cosiddetta autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario naturalmente il testo prevede alla definizione dei principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia modalità procedurali di approvazioni che derivano da intese tra le regioni e lo stato stesso praticamente le regioni potranno condividere con lo stato quelle che sono diciamo delle competenze che vorrebbero detenere diciamo così e valutare poi tutte le condizioni tra cui anche la durata fondamentalmente ci sono delle materie che sono state circoscritte in cui si possono siglare intese tra stato e regioni e questo dico l'ultima cosa ma che secondo me è molto importante si basa anche su alcuni numeri allora le regioni del nord veneto emilia romagna lombardia sono quelle che la vogliono di più questa autonomia differenziata allora perché insistono per ottenere l'autonomia differenziata perché la queste regioni hanno alimentato le casse pubbliche e il resto del paese rispettivamente con 2680 euro 2811 euro e 5090 euro mentre invece le regioni del mezzogiorno che sono e che hanno maggiori difficoltà economiche rispetto al resto del paese ricevono flussi finanziari che sono inferiori scusate superiori alle risorse che versano fondamentalmente quindi si crea questa disparità allora ovviamente partiamo da qui non è l'unico aspetto che va bisogna valutare ti chiedo subito cosa ne pensi Giancarlo autonomia differenziata allora cerco di essere telegrafico autonomia differenziata sono d'accordo ok poi poi bisogna bisogna insomma discutere su come arrivare a allora è ovvio che le regioni più ricche devono per forza insomma a diciamo aiutare quelle più in difficoltà altrimenti non saremo uno stato unitario insomma quindi è sempre stato così e così deve rimanere quindi i contributi netti delle regioni settentrionali che come tutti sappiamo insomma sono quelle più sviluppate devono continuare appunto ad alimentare invece a appunto a sostenere anche l'economia del mezzogiorno però su alcuni alcune cose che hai citato tu cioè su alcuni punti le regioni che cosa fanno mandano i soldi allo stato e lo stato provvede dandogli dei servizi ma sono dei servizi che possono tranquillamente essere fatti anche dalle regioni per cui per quei servizi lì le regioni del nord chiedono una maggiore autonomia cioè caro stato italiano cara Roma tanto per intenderci non ti mandiamo i soldi delle nostre tasse per fare certi servizi perché li facciamo noi e probabilmente insomma credono che di saperli gestire in maniera migliore ma rimane però ecco questo è quello che voglio assolutamente sottolineare rimane il fatto che le regioni del nord contribuiranno di più e le regioni del sud di meno ma questo non deve essere messo in discussione io non capisco perché al sud abbiano paura dell'autonomia differenziata forse non sanno gestire al meglio i soldi e se non sanno gestire meglio i soldi insomma è un problema perché poi insomma emerge quasi e però bisogna capire anche questo insomma perché tu hai fatto una premessa importante ed è ovvio siamo uno stato unitario ed è giusto che ci sia come dire una locomotiva che trascini anche il resto del paese perché dobbiamo poi ragionare complessivamente con tutte le differenze da regione a regione quindi questa premessa la teniamo sempre lì sul tavolo però poi bisogna entrare anche un po' più nel merito dicevo e se un po' basta guardare anche online che chi dice no così aumentano aumenterebbero ancora di più le differenze tra nord e sud e rischia di diventare una lotta una guerra tra nord e sud quindi su questo però mi pare di capire che tu non sia d'accordo perché anzi ciascuna regione potrebbe decidere appunto in sinergia con lo Stato quali competenze tenersi fondamentalmente quindi anche riuscendo a garantire una maggiore efficienza perché come dici tu se si è in grado di gestire le risorse che abbiamo si danno anche più servizi ai cittadini è così no insomma abbastanza direttamente proporzionale questi sono questi due aspetti certo e poi avvicina il centro decisionale al cittadino questo è un altro aspetto secondo me molto importante perché altrimenti diciamo l'amministratore può sempre così giustificarsi dando la colpa a Roma è Roma è Roma allora noi sappiamo per esempio che la sanità è gestita dalle regioni è vero che l'ammontare totale degli importi dovuti al sistema sanitario nazionale viene deciso dal governo a Roma però poi dopo la gestione dei vari ospedali è una cosa che viene fatta dalla regione quindi io so che se l'ospedale non funziona bene so anche con chi prendermela con la mia regione insomma quindi avvicinare il centro decisionale al cittadino secondo me è un altro aspetto importante per cui sono favorevole a questa autonomia differenziale ok ok poi evidenziamo anche che la novità più rilevante della nuova legge sull'autonomia è la fissazione di livelli essenziali delle prestazioni lo avrete sentito i cosiddetti LEP da parte della cabina di regia che è stata istituita dalla legge di bilancio 2023 cosa succede fondamentalmente allo Stato? Compete la definizione dei criteri per cui bisogna attenersi nel definire il livello minimo atteso mentre invece leggo perché non voglio sbagliare alla regione altri soggetti autonomi quindi province, comuni, scuole eccetera aspetta a fornire la prestazione specifica per i cittadini è quello che dicevamo poco fa no? quindi ecco riesco a gestire maggiormente una prestazione che viene rivolta direttamente ai cittadini a cui si riferisce e poi questi livelli possono essere alzati con prestazioni qualitativamente superiori insomma a seconda dei casi sì dimmi Giancarlo no no certo lo Stato chiaramente deve decidere quale sia lo stanziamento per la scuola per l'ordine pubblico è chiaro che la decisione di questo tipo di tipo macroeconomico deve essere presa dal governo cioè governo che punta di più sulla scuola sulla sanità però poi dopo ecco come hai detto precisamente tu volevo appunto sottolineare questo fatto poi dopo la gestione deve invece essere meno centralizzata anche perché le regioni sono tutte diverse è la bellezza e la ricchezza italiana quindi il fatto che lo Stato stanzi le risorse ma poi ciascuna regione a seconda anche di dove del tema non mi viene la parola insomma di quello su cui vuole puntare ecco diciamolo ancora più in modo ampio ci sono regioni più turistiche regioni invece più basate sul business insomma è chiaro decide come amministrare queste risorse detto così effettivamente Giancarlo è una ricchezza per tutti perché fa così paura però l'autonomia differenziata? Eh appunto il timore è che avvantaggi le regioni ricche anziché quelle povere io capisco che adesso la situazione disastrata di alcune regioni chi prende in mano regioni che hanno dei bilanci quasi disastrosi a timore di dover magari non lo so non avere a disposizione risorse sufficienti per migliorare la situazione ma non penso che che con l'autonomia differenziata cambi molto da quel punto di vista lì cambia sul fatto che appunto la scuola cosa che adesso viene gestita solo a livello nazionale magari può essere gestita a livello regionale io guardate che non è che sia d'accordo su tutti i punti però sulla logica invece sono d'accordo sulla logica che sta alla base Allora ancora qualche minuto per parlare delle elezioni regionali ormai ci siamo focus su Lombardia e Lazio ovviamente ricordiamo che Lombardia e Lazio voteranno domenica e lunedì quindi due giorni domenica dalle 7 alle 23 tutto il giorno lunedì dalle 7 alle 15 come sempre avviene per rinnovare il consiglio regionale ed eleggere il nuovo presidente di regione Lombardia ricordiamo solo i candidati sono il governatore uscente a Tiglio Fontana Pierfrancesco Maiorino del PD Letizia Moratti ex vicepresidente della regione guidata da Fontana e ora sostenuta dal Terzo Polo che sono i nomi principali nel Lazio i principali nomi sono l'ex presidente della Croce Rossa Francesco Rocca centrodestra l'assessore uscente alla sanità della giunta Zingaretti Alessio D'Amato PD e Terzo Polo e la giornalista RAI Donatella Bianchi per il Movimento 5 Stelle Giancarlo due aspetti intanto insomma saranno saranno seguite queste regionali e poi quanto potranno incidere o meglio quanto il voto nazionale potrà incidere su queste regionali Allora, qua sulle regionali bisogna dire una cosa importantissima non c'è il ballottaggio Eh giusto, è vero, è vero elezione diretta elezione diretta elezione diretta e diciamo quindi che siamo al presidenzialismo puro nel senso che chi prende un voto in più vince e allora dove non c'è il ballottaggio è chiaro che fondamentale è la capacità di aggregazione e allora il centrodestra è riuscito sia in Lombardia che nel Lazio a essere unito il centrosinistra no non c'è riuscito né in Lombardia né nel Lazio e quindi come hai fatto hai già sottolineato tu in Lombardia il centrodestra rappresenta l'attuale governatore insomma Tilio Fontana il centrosinistra si è diviso il PD e il Movimento 5 Stelle da una parte e il terzo polo insomma Renzi Calenda dall'altra e la divisione porterà naturalmente a far sì che Fontana con ogni cioè insomma sarebbe una cosa incredibile non riuscisse a essere rieletto insomma quindi Fontana verrà rieletto considerando che Lombardia il governo di centrodestra c'è da 18 anni sarebbe quasi complicato ragionare su un altro governo ma insomma tutto è possibile però tu dici che ha molte chance di essere confermato è perché la divisione cioè se anche il terzo polo avesse votato per lo stesso candidato del PD non dico che ci sarebbe stata lotta ma insomma il risultato diventava non più scontato così appunto non essendoci il ballottaggio la rielezione di Fontana è scontata e più o meno si può fare lo stesso ragionamento per il Lazio anche nel Lazio il centrodestra si presenta compatto mentre il centrosinistra si divide lì si divide perché è il Movimento 5 Stelle che non resta legato al Partito Democratico quindi Maiolino da una parte e la Bianchi la giornalista dall'altra è chiaro che si mangeranno voti tra di loro tutto a vantaggio di Francesco Rocca che è appunto l'ex presidente della Croce Rossellina Maiolino in Lombardia e ha avuto un lapsus ed amato per il PD a Roma sì scusami no no immaginavo fosse un lapsus ma insomma sì 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 ex ministro della salute sì 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 alla sanità esatto e invece appunto tutto questo fa da vantaggio a Rocca che chiaramente approfitterà di questo anche se non raggiungerà il 50% però senz'altro supererà gli altri e quindi c'è un passaggio però ecco come hai detto tu in Lombardia c'è un governatore di centrodestra praticamente da quando c'è questo tipo di elezione cioè da quando c'è l'elezione diretta diciamo del governatore e sono stati praticamente soltanto tre governatori c'è stato Formigoni, Maroni e adesso Attilio Fontana invece il Lazio effettivamente è una regione che ha fatto una volta il centrodestra una volta il centrosinistra e così via quindi non è una sorpresa diciamo quest'altalena di risultati adesso tocca ancora il centrodestra come era toccata la Polverini in precedenza vediamo il Lazio non è una regione facile da gestire se non mi sbaglio ha circa 13 miliardi di debito la regione quindi insomma è più facile gestire la Lombardia che non il Lazio ecco diciamolo così va bene secondo te come sarà l'affluenza e poi ti saluto? no l'affluenza temo che sia bassa un po' perché appunto il risultato sembra scontato e un po' perché non se ne è parlato molto in effetti è vero è vero temo che sia alta la tensione però non inciderà sul risultato finale va bene va bene chissà quando riusciremo a tornare a un momento a un periodo in cui effettivamente vedremo una partecipazione alla vita politica massiccia da parte dei cittadini aspettiamo aspettiamo tempi migliori sistemando anche tutto quello che c'è da sistemare grazie a Giancarlo Marcotti grazie a naturalmente per essere con noi sempre seguitelo su Finanza in Chiaro e ci rivediamo la settimana prossima per il nuovo appuntamento con il fatto di Marcotti sulle fonti tv grazie grazie a te Emanuela come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori grazie mille grazie a tutti